buongiorno a tutti sono massimo landi vi faccio questo breve video di saluto da da torino grazie a paolo e a monica per l'invito quest'anno ai pinguini oggi qui a torino una giornata piovosa abbiamo un bel foliage e torino una città che grazie e per fortuna ha molto verde la collina che vedete qui di fronte insomma è un po nelle neppie ma si può intravedere il cambiamento delle foglie degli alberi della collina il po ahimè abbastanza a livelli alti infatti qualche giorno fa è esondato insomma come sempre oramai clima ci ha abituato a degli eccessi anziché avere delle situazioni più regolari io vi parlerò fra qualche settimana il compito che mi è stato affidato e vorrei parlarvi di naso chiuso naso che cola e di come e di come questo avviene insomma cercherò di rendere divertente il titolo che mi è stato dato e divertente cercherò di rendere divertente una relazione che certamente tutti i pediatri conoscono bene che è quella del naso che colo del naso che chiude grazie ci vediamo presto buona giornata